E novità da 5.11 con un altro prodotto della linea Skyweight. Beh, per farla breve, la stessa attenzione tattica di 5.11, tutto lo stesso a cura per i dettagli di cui siamo abituati, ma in una versione molto più leggera. Questo è uno sling pack, un monospalla da 10 litri, adesso guarderemo bene tutti i dettagli, considerate sempre che è fatto per pesare il meno possibile e anche per avere un look meno tattico. Questo però non significa arretrare neanche di un passo sulla funzionalità tattica di questi oggetti. È dotato di questo spallaccio che ha un suo gancetto a G con l'acciaio armonico qui, che si blocca, adesso vi faccio vedere, eccolo qui. Si può completamente rimuovere, fare la stessa cosa anche di qua, e riconfigurare per il porto a destra, a sinistra, come lo preferite, oppure se avete uno di questi zaini della linea Skyweight, saprete che il cinturone lombare è staccabile e potrete utilizzarlo questo, o magari un altro cinturone che vi piace, che avete già a casa, per portare tutto lo sling pack, come si chiamano lower backpack, degli zaini bassi, dei marsupi schienali, chiamateli come volete. Questo si mette dietro la schiena con un cinturone passante, è una buona cintura e lo utilizzate per le vostre escursioni, come borsa dell'emergenza, beh, c'ha mille funzionalità, una cosa del genere. Poi, nella vita di tutti i giorni, ci andate a scuola, all'università, a lavoro, lo risistemate come monospalla, lo riconfigurate, ed ecco che vi siete organizzati il vostro EDC. I materiali di questa linea sono più leggeri rispetto al solito, e questo è nylon 330 ripstop, quindi al tatto anche più morbido, devo dire molto piacevole, una linea più moderna di 511, ammettiamolo, siamo tutti amanti del tattico, amanti delle cose tostissime, però quando poi diventa tutto più pesante, magari ci ripensiamo. Ecco che lo skyweight va ad intercettare quelli derli. Qui notate dei passanti, devo dirvi a che servono, no, lo sapete già, che servono per un'eventuale borsa idrica, sistemata all'interno dello zaino, qui c'è il suo buchino, e posso tranquillamente passare qui il tubetto e bere. Questo slingback ha uno spallaccio molto comodo, è importante nei monospalla, che tanto tendiamo sempre a caricarli un po' troppo, e questo spallaccio è configurabile con una cinghietta di stabilità, è anche dotata di escursione elastica, e si può regolare in altezza cambiando questo gancetto con questo mini-moll, un nuovo sistema laserato di 5e Laren, compatibile con gli attacchi molle e con diversi accessori di cui vi parlerò fra poco. Abbiamo in dotazione lo sgancio rapido. Ragazzi, lo sgancio rapido di questo tipo di equipaggiamento è davvero importante, non dimenticatelo mai. Schienale traspirante, questo è fatto come gli zaini skyweight, quindi fantastico, vedete delle... voglio spiegarvelo questo schienale, perché farà tutta la differenza del mondo. Qui avete delle ondine, se vogliamo, di vuoto, tra uno e l'altro cuscinetto sagomato, quindi questa retina permetterà la traspirazione, proprio grazie a questi canali di vuoto. Una buona idea, comoda soprattutto negli zaini, la troviamo anche nel monospalla, che se poi decidete di portare in questo modo sul retro di un cinturone, oh ragazzi, questa è una cosa comoda. Poi vedete che la parte laterale o la parte superiore e inferiore tende a muoversi in questo modo, tende a sagomarsi sul nostro corpo, questo è importante. Non posso mostrarvela, ma in questa zona c'è una mattonella in velcro che va ad agganciarsi proprio al cinturone dello zaino skyweight o dei rush, per esempio. Comunque se avete un cinturone con un pannello in velcro morbido, qui troverà una controparte in velcro duro, in velcro maschio, in hook, uncini, che vi permettono di bloccare l'escursione laterale dello zainetto portato dietro. Siccome tutto lo skyweight sling pack è ampiamente configurabile, beh, possiamo sistemare una borraccia sia da questa parte che da quest'altra. Questa tasca laterale che vedete è tutta in elastan, leggerissima e comodissima. Su entrambi i lati troviamo un sistema di ritenzione particolare, un elastico con un gancetto. Questo elastico con il gancetto fa da fondello eventualmente per la nostra borraccia. Io adesso sistemo una water to go, la borraccia filtrante, è disponibile pure questa su backpacko.it. Beh, la sistemo così perché magari voglio fare un'escursione e mi serve la mia borraccia filtrante. So che troverò dell'acqua, ma non so se sarà buona da bere. Quindi con la borraccia filtrante sono sicuro. Una volta che l'ho messa in posizione posso utilizzare anche il gancetto di sicurezza superiore e ragazzi, da qui vi assicuro che non va via. Tiro un po' gli elastici, regolo un po' la faccenda. Ecco qui lo zainetto con la sua borraccia. Soluzione comoda anche in ufficio se vogliamo prendere l'acqua direttamente dal bagno così possiamo bere senza problemi da una fontana pubblica. Insomma, io la uso la water to go ormai per bere anche a casa quindi va bene così. Se non siete soliti, non avete l'esigenza di portare dell'acqua con voi ma mi raccomando restate idratati, è fondamentale. Beh, un keyway, un ombrello, qualsiasi cosa qui lo potete sistemare. Sul davanti lo sling pack si presenta con una tasca sempre elastica, sempre ottima per sistemare piccoli oggetti, gli occhiali, quello che vi pare qui ci sta benissimo. Zip YKK manco a dirlo, 511. Vedete poi anche diversi sistemini passanti per agganciare moschettoni, accessori, lucine di segnalazione. quello che vi può sembrare utile, quello che vi serve ma anche se volete con delle cordine elastiche bloccare una felpa o qualcosa di più ingombrante. E qui dietro lo schienale vedete una tasca dove poter sistemare un tablet o qualcosa nella vita cittadina, dei documenti, anche i soldini, il portafoglio è ben protetto, ben chiuso, ben vicino al corpo ma soprattutto durante un'attività outdoor, una sacca idrica di quelle piccoline che passando col tubetto così possiamo usarle per bere senza problemi. Dentro lo zaino è completamente apribile così e questa è una cosa fantastica, guardatelo bene. È fantastico perché ci permette di organizzare tutto il nostro carico, tutto il nostro edc vedendo bene come stanno le cose e poi richiuderlo, riaffagottarlo tutto per avere tutto compatto e trasportabile. Cosa abbiamo? Beh, su questa zona che è la zona dello schienale due tasche retinate per piccoli oggetti ma neanche tanto piccoli, anche radio, anche caricatori, poi c'è tutto questo scomparto che adesso sembra piatto, sembra essere finito ma vedete che è enorme e questa zona fantastica, questa zona è fantastica perché ha ben tre, ve la faccio vedere così questa zona che è la parte frontale ha ben tre scomparti con le zip. Sono retinati quindi vediamo sempre cosa c'è dentro e sono tutti chiusi con le zip, tutti divisi per bene per sistemare le dc. Quando abbiamo tutto sistemato, ecco a me piace da morire questa cosa di avere lo zainetto aperto tutto così, tutto in questo modo perché se devo ad esempio prendere un aereo controllo di non aver dimenticato una lama, un cacciavite, qualcosa che potrebbe farmi passare dei guai come se non fosse mai capitato. Ecco che se lo devo richiudere basta seguire le zip da una parte e dall'altra in questo modo le zip restano così, ho a disposizione tutta la capacità dello zaino per riempirlo con gli accessori e poi lo richiudo completamente. Quando l'abbiamo richiuso tutto a posto ecco il nostro Skyweight Slingpack pronto per viaggiare pronto per nuove avventure disponibile su backpack.it in due colorazioni con tutte le informazioni e vi ricordo che è disponibile sempre sulla pagina del prodotto la video recensione completa. Qui al barpacco non ho modo di mostrarvi proprio tutti i dettagli di tutti gli oggetti quindi recensioni complete sulla pagina del prodotto.